Amici di Teledeon, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti verso il 4 marzo 2018, appuntamento fondamentale per il Paese. Si torna alle urne per rinnovare il Parlamento e dare indicazioni chiare per la formazione del nuovo governo che guiderà l'Italia per i prossimi cinque anni. Noi continuiamo ad incontrare i protagonisti della scena politica, i protagonisti di questa campagna elettorale, quelli che stanno cercando di convincere gli elettori ad andare alle urne per esprimere compiutamente la propria volontà e la propria preferenza. Oggi siamo particolarmente lieti di incontrare Francesco Ospina, grazie per essere con noi. Francesco Ospina che ricordiamo essere candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Puglia 3 che comprende i comuni di Biceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo e Terlizzi. E' sostenuto dal Partito Democratico, più Europa è il movimento che fa capo alla Bonino, Civica Popolare è quello che fa capo alla Lorenzin e insieme Italia-Europa, il movimento vicino al Premier Gentiloni. Dunque Francesco Ospina sta producendo gli ultimi incontri, le ultime strette di mano, gli ultimi impegni presi per questo territorio. Che campagna elettorale è stata alla fine? Suggestiva innanzitutto perché fare la campagna elettorale tra la neve, come negli ultimi giorni, soprattutto nei comuni di Corato, di Terlizzi, Ruvo, al di là della resistenza fisica che chiaramente voglio dire con queste temperature viene messa a repentaglio perché è facile uscendo ed entrando dai locali, parlando con la gente, nelle grandi riunioni che si stanno facendo è facile incorrere in qualche raffreddore. Però devo dire che è bella, entusiasmante proprio perché è nuova. Praticamente ho fatto la campagna elettorale che fa un sindaco normalmente. La nuova legge elettorale elegge non un parlamentare ma il sindaco di un collegio. Per intenderci il sistema elettorale è identico a quello dei sindaci salvo il fatto che non si può fare il voto disgiunto e che non c'è un balottaggio. Ma chi prende un voto di più perciò si chiama sistema maggioritario e uninominale perché la coalizione esprime un unico nome sulla scheda. Nel caso mio Francesco Ospina rappresenta l'intera coalizione delle quattro liste che hai citato. Per cui l'abitudine a stare sul pezzo costantemente. Devo dire che la mia campagna elettorale poi non finisce dai 12 anni, da quando diventai sindaco per la prima volta nella città di Biceglie. Ma anche dopo le campagne elettorali ho dimostrato di stare sempre a contatto con le persone mantenendo gli impegni assunti, come ho dimostrato con il mio spot elettorale che è stato gradito agli elettori e soprattutto ha dato continuità a quell'impegno del 2013 quando io preannunciai tante opere pubbliche nell'ultimo comizio finale e poi quelle opere sono state puntualmente realizzate nella città di Biceglie. Sto ascoltando veramente tutti quanti. Vediamo prima lo spot così ci rendiamo conto esattamente di che cosa si tratta. Più regole, più rispetto, più processi di confronto e di riforma. I nostri programmi sono le opere, le opere che faremo, ristruttureremo le scuole, più servizi sociali, l'attenzione per la sicurezza, la nuova caserma, la video sorveglianza, di tutelare l'ambiente, la salute dei cittadini, di riformare, ristrutturare, cambiare, democratizzare la vita della città. In questi numerosi anni di impegno nelle istituzioni ho sempre trasformato le idee in fatti concreti e ho mantenuto gli impegni assunti nei confronti dei cittadini. Il 4 marzo vi aspetto per continuare a far crescere insieme le nostre comunità. E allora abbiamo visto esattamente di che cosa si trattava. Tanti impegni, tanti impegni mantenuti, non solo promesse come purtroppo ci capita di ascoltare in questi giorni. A certe volte paghiamo noi la disaffezione alla politica che nasce dalle prese in giro che i vecchi politicanti hanno prodotto. Io ho combattuto contro questa politica, nella mia città spesso questi scontri sono stati anche vementi di continuo perché si contrapponeva alla politica legata alla logica romana con la politica di chi lavora ogni giorno sul territorio. Sono due visioni completamente diverse, ma non sto a dire che sia in malafede uno o l'altro. Sono proprio due mondi contrapposti. Chi è abituato a vedere le cose con una lente di ingrandimento da Roma e guarda le cose con attenzione è chiaro che vede una realtà diversa. Quando scendi in campo è completamente diverso. Esattamente come lo spettatore di una partita. Da fuori dagli spalti tutti dicono è facile fare quel tiro a volo, all'incrocio. Poi quando scendi sul campo ti rendi conto che se non hai velocità scatto e tecnica poi alla fine rimani lì a guardare la partita e non a giocarla. Sono due mondi diversi. Io cerco di fare un po' di sintesi perché il politico che sta sul territorio deve avere anche la saggezza di rispettare chi da lontano non riesce a percepire i problemi della gente, la disperazione, la voglia di lavoro, la voglia di risposte delle istituzioni che spesso mancano. E quindi ci troviamo di fronte qualche volta anche a pagare lo scotto per responsabilità che onestamente sono le cosiddette responsabilità indirette del politico. I sindaci normalmente rispondono anche per le cose che fanno gli altri. Un sistema, una vecchia logica soprattutto politica che funziona molto a livello mediatico, a livello di attacchi alla diligenza quando qualcosa non va. Sindaco, sindaco, sindaco. Sono stato così abituato ad assumermi la responsabilità, a dormire con le responsabilità anche di quello che accadeva di notte quando io dormivo nella mia città per cui anche in queste ore sto assistendo a quelle che sono logiche di rapporti con la gente dove il politico viene visto come il responsabile di tutto ciò che non va nel mondo addirittura. Quindi questo è un aspetto qualche volta che ti fa capire come sia difficile recuperare la fiducia con la gente. E come si fa? Girando, parlando, ascoltando, spiegando. Grande pazienza, bisogna tessere una rete di rapporti umani che sono venuti meno nell'era dei social network. Quindi il politico ha anche un compito di umanizzare il rapporto tra l'istituzione e la gente. Perché il fatto che ci siamo abituati a giudicare, a condannare, a valutare tutto dietro a un computer, anche quello è un aspetto che ha reso sterili i rapporti umani. A me capita di trovare degli amici, dei politici, anche avversari, che sono splendidi se ci parli personalmente, ma che scrivono cose veramente aberranti sul computer. Là è scatto un meccanismo di doping proprio psicologico che va a modificare anche probabilmente il carattere delle persone. Quindi bisogna stare attenti anche a umanizzare questi rapporti perché... Ci sono anche forze politiche che hanno incentrato tutto, anche la loro attività politica, proprio sull'uso dei computer. Sì, ma l'ho detto perché è facile stare dietro a un computer. Cioè, in democrazia, cosa ci hanno insegnato? Dalla Costituzione in poi, i nostri genitori? C'è stato un piccolo periodo dove questo non valeva, era il periodo del fascismo. E allora quando si tenta di modificare un concetto cardine della democrazia, cioè che il consenso è legato al giudizio di un popolo, quando si modifica questo concetto attraverso situazioni che deformano la formazione della volontà popolare, allora bisogna stare attenti. Come si deforma la volontà popolare? Attraverso dei meccanismi per i quali, per esempio, ci può essere qualcuno che va a fare il Presidente del Consiglio, come Di Maio, con 130 voti, perché ne ha presi 380, ma mi risulta che per il regolamento di questo movimento pentastellato ci sia addirittura la possibilità che ogni cittadino esprima tre preferenze, ogni elettore iscritto su questa piattaforma gestita da una società privata. Cioè, voi immaginate il consenso dell'Italia per il quale viene eletto il Presidente del Consiglio gestito da una società di carattere privato, una piattaforma privata che è appartenente a privati, quindi che può produrre anche utili economici sicuramente, non la gestione della pubblicità e di altro. Quindi una cosa berrante sotto il profilo della democrazia, l'avessero scritta 20 anni fa nessuno ci avrebbe creduto, avrebbero detto che questo è un film di fantapolitica, di fantascienza, invece sta accadendo. Quindi Di Maio, con 130 voti, rischia di fare il Presidente del Consiglio, un sindaco che nella sua storia ha preso sempre non meno di 20 mila voti quando si è candidato, deve sudare porta per porta per cercare di guadagnare il consenso della gente attraverso la presentazione di progetti, di programmi, come si fa nella politica normale. Spero che i cittadini capiscano che è meglio avere un Francesco Spina umano, normale, che va per la gente, stringe la mano, pregi, difetti, simpatico, antipatico, piuttosto che avatar, che non esiste, il fantasma pentastellato, non lo conosciamo, speriamo che venga a dire qualche cosa perché io fino all'ultimo non dispero, anche un confronto, una parola, perché se viene i cittadini poi si accorgono che Francesco Spina ha una testa, due braccia e due gambe e che avatar ha la stessa testa, due braccia e due gambe e che non farà nulla di positivo per la comunità se non è capace di farlo, non è che hanno dei poteri paranormali, il 5 Stelle sono esattamente oggi come coloro che sulla disgrazia di una comunità, su un cattivo atto amministrativo, costruiscono un consenso, un paragone che ho fatto in queste ore, immaginate un agricoltore che lavora 18 ore al giorno per far crescere i suoi frutti, ci lavora duramente, innaffia, semina, zappa, poi arriva una grandinata, arriva la grandinata e il raccolto non è quello sperato, anzi è di meno di quello che avrebbe voluto avere rispetto all'investimento sia di sforzo che economico fatto per quel tipo di coltivazione. Loro rispetto a quello che ha lavorato per 18 ore, basta che arrivano un secondo, fanno una foto del raccolto distrutto da una cosa imprevedibile e imponderabile, non legata neanche all'incapacità dell'agricoltura e su quello costruiscono mille fotografie su internet e dicono sei un incapace, non sei stato bravo e creano una situazione per la quale sulla disgrazia c'è stato uno sciacallaggio di carattere politico, per intenderci uno che ha fatto 150 opere a Biceglie e quindi la gente sta sempre lì a vederti che cosa hai fatto, che cosa hai fatto, che cosa hai fatto, se un giorno sbaglia una cosa e arrivano gli sciacalli della politica, che non sono solo i pentastellati, stanno anche nei leghisti del Nord, sono abilissimi in queste cose pure loro, perché la matrice comuna è una matrice ideologicamente di destra, ormai si sta scoprendo che tutti i Movimenti 5 Stelle nelle realtà locali, per esempio a Biceglie, chi sta facendo campagna elettorale, chi rappresenta nei comizi e nei interventi il Movimento 5 Stelle non è Avata, ma è un noto esponente del Movimento Sociale italiano che ha fatto il segretario del Movimento Sociale a Biceglie per tanti anni, quindi si stanno scoprendo le comuni matrici ideologiche dei due movimenti, populismo, settarismo, squadrismo nelle azioni politiche. La valutazione è politica. Quindi che cosa succede? Come se avessi fatto io 150 opere al primo errore, sciacallaggio politico, io se ho costruito un consenso al 70% per aver fatto tanto lavoro, mi basta poco sbagliare una cosa qualsiasi politicamente, onestamente, umanamente, come accade a tutti e io sono certo che tutti dimenticherebbero il lavoro fatto, ma che vincerebbe il dissenso creato da queste forme mediatiche dei social network. E quindi diventa pericolosissimo per la democrazia, perché la democrazia non è fatta per distruggere, là occorre fare le cose brutte per distruggere. La democrazia è fatta per costruire, per proporre, per articolare idee, progetti, programmi, per fare del bene, non per fare del mare. C'è uno che si alza la mattina e non deve realizzare nulla, ma pensa come fare male e colpire il suo avversario. Non è una persona politicamente utile, è una persona che non fa un controllo sulle cose fatte, ma cerca di demonizzare l'avversario. Di qui, voi ve lo ricordate, no? Quella richiesta dei 5, vedete, chi in giro dei vostri avversari ha qualcosa da nascondere e fate il dossier, lo ha detto un candidato dei 5 Stelle, ma oggi sta accadendo anche a parti invertite, perché è lì che volevo arrivare. Proprio chi di spada ferisce, di spada perisce. Per esempio è di queste ore, su quasi tutti i giornali pugliesi, c'è il caso di un conflitto di interessi anche abbastanza lecito dal punto di vista professionale, ma il dato politico che lei ne ricava qual è? Che chi di dossieraggio ferisce, di dossieraggio perisce, perché i pentastellati facevano dossier su tutti, non sapevano che c'erano nel collegio dove è accaduto, dove io conosco bene l'avversario dei pentastellati, Silvestris, non sapevano che là c'è un'abilità diciamo a fare campana elettorale su queste cose. Quindi è evidente che la comune matrice diciamo culturale ideologica porta la campana elettorale a qualcosa di sgradevole, perché io giudico le persone sui fatti, su quello che si propone, su quello che si fa, sulle idee, sulle intuizioni, sulle cose belle che si fanno, non si può giudicare sempre una campana elettorale su chi la spara più grossa, su chi offende di più. Io mi sono arrabbiato l'altro giorno, ma non per gli attacchi che ho avuto da Bicelli, ma per le differenze culturali che sono evidenti tra la mia coalizione e la coalizione degli avversari. La mia coalizione è fatta da persone per bene, persone che si ispirano a valori veri, riformisti, di rispetto cristiano vero, di cultura, di democrazia, di rispetto dei giovani, degli anziani, di solidarietà. Sono stato accorato. Accorato abbiamo presentato le nostre idee, i nostri programmi. C'era tutta la coalizione che mi sostiene e devo dire non era facile mettere insieme i due candidati sindaci del centro-sinistra che erano stati divisi durante le elezioni comunali. Tommaso Loiodice e Renato Bucci, due belle figure, che erano stati divisi da logiche normali, di dinamiche amministrative locali, ma non sotto il profilo ideologico, culturale o politico. Mettere insieme il cantiere, Ape, le soggettività della città di Corato insieme. Li abbiamo messi tutti insieme. Un'unica indicazione, ho detto, non accetterei mai che qualcuno parlasse male di chi è mio avversario oggi. Perché è chiaro che quando ci sono logiche locali potrebbe partire la parola grossa. Devo dirti che la risposta di quegli amici è stata far parlare i giovani di ambiente, di energie alternative, di programmi per il lavoro, di programmi di sviluppo culturale, di programmi di sviluppo turistico. Nessuno ha detto una parola. Passano quattro ore? Il mio avversario, che poi ci accomuna anche un'amicizia, non dobbiamo mettere in discussione gli aspetti umani, ma su piano politico è un mio avversario oggi, con idee politicamente diverse e con coalizioni diverse, viene a Biceglie, devo dire non aveva la platea che avevo io all'Alfieri la mattina nella città di Corato, ma tra quattro gatti in quella sala di Santa Croce non parla nessuno di loro, chi interviene, che non c'entra niente con la campagna elettorale comunale perché sta fuori, sta candidato altrove, interviene Silvestris, che viene usato in queste situazioni come mazziere politico, come si fa con gli squadristi? Utilizzano lui quando si tratta di picchiare verbalmente, perché? Sanno notoriamente che non dice nulla, perché se tu senti il discorso e gli togli l'enfasi è come dire zero elevato a zero, ma questo significa proferire offese nei miei riguardi gratuitamente, così senza che io conoscesse e sapessi nulla. E per quale ragione lì e non in un bel pubblico comizio perché in una sala chiusa, ecco qui c'è lo squadrismo che qualche volta nasconde quella viltà politica di colpire alle spalle, non in faccia, perché uno può rispondere. Quindi queste sono le cose che hanno disturbato questa campagna elettorale che per il resto si sta svolgendo su temi, su programmi, anche se come hai detto tu poi alla fine l'unico a parlare di contenuti in giro, sembro io che predico nel deserto perché qua non c'è nulla, insomma io spero veramente che a Biceglie si ristabilisca, visto che la città è tranquilla, tra l'altro sono l'unico candidato in una città di Biceglie, spero che si possa parlare di contenuti e di programmi, spero che le offese siano terminate, perché Silvestris di pensioni ne ha prese assai come consigliere regionale, come europarlamentare, adesso questo accadimento contro di me non è dettato dalla voglia di arrivare a qualche altra terza pensione, perché è candidato da un altro collegio, non è candidato a Biceglie. Nel suo, ecco io vorrei lasciarle proprio un minuto per dire per quale motivo i cittadini del suo collegio dovrebbero scegliere Francesco Spina. Scegliere l'unico candidato che oggi parla di programmi, a idee, a risorse fisiche, di energia, di passione per portare avanti un po' l'interesse di questa terra, l'unico candidato che potrebbe essere in grado di dire no alla strapotere del nord che attraverso, lo sappiamo bene, la faccia che è più tranquilla, più mite di Berlusconi che ha detto che nei prossimi vent'anni risolverà i problemi dell'Italia, attraverso questa azione mediatica che è chiaramente una butade perché a 102 anni non potrà risolvere i problemi degli italiani, si nasconde la faccia dura, che è quella vera, di un fascismo neanche troppo strisciante, molto chiaro e marcato di Matteo Salvini che ha tolto la parola nord ma con un intento chiaro e specifico, di venire attraverso le candidature territoriali come quella di Perrone, di venire al sud, prendersi i voti, prendere le risorse, prendere il lavoro e pestare ancora una volta la dignità di un sud spesso dimenticato. Ringraziamo Francesco Spina, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Puglia 3 che comprende i comuni di Biceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Rubo e Terlizzi e sostenuto dal Partito Democratico, più Europa, Civica Popolare e Lorenzin, insieme Italia e Europa. Grazie per essere stato con noi, torneremo a parlare con lui nei prossimi giorni di questi ultimi istanti di campagna elettorale. L'appuntamento per tutti è sempre con elettori ed eletti. Grazie per la visione!